Grazie a un mio esposto è partita l'inchiesta Gettonopoli rimbalzata sulle cronache nazionali. Sui 32 consiglieri comunali di Catanzaro, 29 sono indagati dalla procura guidata da Nicola Gratteri. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, durante un incontro nel pomeriggio di venerdì a Catanzaro, al quale ha partecipato anche Francesco Di Lieto delle Codacons. Insomma, ha detto la Granato, il comune non ha più credibilità e i cittadini hanno il diritto di cambiare. La maggioranza di centrodestra è invece rimasta al suo posto. I consiglieri comunali di Forza Italia hanno ritirato le dimissioni che avevano annunciato. Tutto è rientrato in nome del potere e del denaro. Infatti al comune di Catanzaro stanno arrivando 40 milioni di finanziamenti comunitari per gli interventi di agenda urbana. Il centrodestra vuole gestirli a tutti i costi. In merito abbiamo ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentela. Allora, è l'ennesimo scandalo che si registra in questa città. È uno scandalo politico che secondo noi non ci deve far restare indifferenti. L'iniziativa di oggi serve un attimino a far capire ai catanzaresi che bisognerebbe un po' aprire gli occhi e smetterla di rimanere indifferenti e capire che la politica è una cosa seria, soprattutto in un capologo di regione che come nel resto della Calabria meriterebbe un po' di più dal punto di vista politico. A volte qualcuno ci dà a noi la responsabilità che la città non va bene. Io voglio ricordare che noi siamo dei parlamentari e scriviamo delle leggi a livello nazionale, leggi che facciamo sempre in modo che possano beneficiare tutti i cittadini italiani, compreso i calabresi e i catanzaresi. Ma se la città va male è colpa dell'amministrazione comunale, se la regione va male è colpa dell'amministrazione regionale, non è colpa del Movimento 5 Stelle. Abramo giustamente, mettendomi i suoi panni, vuole mantenere il potere, ha i numeri per farlo e quindi continuerà a fare il sindaco di queste città. Ma noi pensiamo che bisognerebbe anche fare una riflessione politica e sociale, perché quello che è accaduto non deve lasciare i cittadini indifferenti, neanche la politica che deve assumersi la propria responsabilità. sarebbe stato bello rispettare quanto annunciato dalla stampa, in cui si dichiarava che si sarebbero dimessi diversi consiglieri anche della maggioranza. Questo non è avvenuto, vuol dire che c'è una convenienza politica a rimanere su quelle poltrone, però i catanzaresi devono pur sempre, ripeto, aprire gli occhi, perché è anche responsabilità dei catanzaresi se lo status quo rimane sempre lo stesso. Grazie.